Fedez visibilmente è provato, torna sui social per rispondere a Selvaggia Rucarelli che lo accusa di fare i soldi vendendo uova di Pasqua e riempiendo le tasche di Benedetti. Lui risponde sicuramente a tono, spiega in che modo fa beneficenza, ma quello che emerge di preoccupante per i suoi followers è che Fedez balbetta mentre sta parlando, si scusa addirittura di questo e dice che è un problema che è sorto da un po' di tempo. Sicuramente ciò che sta attraversando dopo tutta la baronda accaduta a Sanremo con relativa lite, tuttora in atto sembrerebbe con sua moglie Chiara Ferragni, gli ha provocato questo tipo di problema. È un sintomo probabilmente insorto, proprio dato da un grande nervosismo che sta attraversando in questi giorni e sicuramente denota che Fedez è una persona molto molto sensibile. Da parte nostra possiamo dire che ci manchi molto, devo dire con quelle meravigliose storie Instagram che facevi insieme alla ditto, speriamo che torni per il resto il sereno, che Fedez possa risolvere anche e soprattutto questo problema di balbuzie. La storia nei miei confronti oggi ha, credo, superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l'altro, quando in realtà io faccio beneficenza per una fondazione che si chiama TOG, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complesse. Ti ringrazio perché mi dai l'occasione di spiegare come faccio beneficenza tramite le buova di Pasqua e quindi no, non riempio le tasche di Carlo De Benedetti come hai fatto tu fino all'altro ieri con il quotidiano per cui lavoravi, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno. Mi chiedo scusa per la balbuzia ma è un problema che ho da un po' di tempo e quindi ci metto un po' di tempo a formulare una frase. Dicevo, io grazie a quello che ho fatto a livello di beneficenza per TOG sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno e adesso vi racconto come doneremo soldi e perché i soldi passano dalla fondazione Fedez per poi andare a TOG. L'azienda Volcor ha dato un anticipo delle vendite dell'uovo e le ha date alla fondazione Zelef, alla mia fondazione, che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come. Grazie a tutti.